Gestivano un noto ristorante insieme a Salerno, Rodolfo Anastasio e Paola Larocca, lui 56 anni, lei 55, morti ieri a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, in quello che è stato definito un omicidio suicidio. Sulla vicenda della procura, la Repubblica di Salerno ha aperto un'inchiesta con indagini affidate al nucleo investigativo dei carabinieri. Una vita insieme, fatta d'amore, rispetto e sacrificio, poi qualcosa si è spezzato, forse è venuto a mancare proprio quel sentimento che aveva fatto da fondamenta per la loro famiglia e la fine del matrimonio si è trasformata in una tragedia. La separazione tra di loro non è stata mai davvero accettata dall'uomo che viveva in un B&B del capoluogo di provincia e ieri mattina, forse proprio con l'intento di mettere fine alla vita della donna che non aveva mai smesso di amare, si è recato a casa di lei una villetta di Viale dei Biancospini nella quale, fino a qualche settimana fa, viveva con la moglie e i suoi due figli di 32 e 29 anni. Per motivi ancora ignoti è scoppiata l'ennesima lite e l'uomo ha tirato fuori un coltello con il quale ha colpito la sua ex compagna. Distilli familiari che, secondo i carabinieri, il nucleo operativo e radiomobile di Salerno rappresenterebbero l'origine della lite, poi sfociata in omicidio-suicidio.